ciao a tutti e benvenuti video finale finale e poi dico sempre finale poi ne aggiungo sempre uno sul caterpillar in una 25 di amt ci sono già mi sembra uno un paio di video addirittura sul montaggio di questo modello modello che è orrendo perché un modello che ha più vecchio di me quindi ha più di 50 anni questo mestiere quindi con tutti i limiti della produzione già mt non aveva la fama di essere una ditta faceva soggetti bellissimi ha fatto tutti i camion americani degli anni 60 70 bellissimi veramente come soggetto purtroppo la realizzazione è una plastica pessima non la plastica intendo il materiale intendo la qualità dello stampo e tante volte ci si lamenta di taleri che ha pochi dettagli ecco mt è un millesimo rispetto alla peggiori taleri quindi no no un modello terrificante l'ho già spiegato e quindi niente praticamente faccio questo video perché la decisione era quella di temere in pratica un soggetto del genere per qualche mese su una base in legno e il modello è fissato in maniera temporanea questa base di legno cioè i cingoli sono incollati con colla vinilica in punti strategici ovviamente perché il modello comunque deve essere rimosso però essendo così grosso il modello saremmo a molto grosso e molto pesante oltretutto i cingoli sono pesantissimi in questo modello qui diventerebbe un disastro portarlo in giro cioè se l'obiettivo di fare questi modelli è promuovermi come modellista e cercare di prendere qualche medaglia di legno in giro per i concorsi italiani ed esteri ecco diciamo che muoverlo così è difficile muoverlo sul carrello sullo boy dell'eccezionale col trattore 180 diventa estremamente più complicato perché spesso quando si va alle manifestazioni può capitare che o in sede di concorso o in sede di giuria o in sede di trasporto si faccia il danno a me succede successo succederà sempre forse il danno più bello che abbiamo fatto fu quando avevo un negozio in via legumbria con con i miei soci francesco e giuseppe no tra tutti i ragazzi che se voi siete di milano se siete frequentatori se siete stati frequentatori del nostro soldatino ve lo ricordate sicuramente ecco una volta feci un bellissimo tornato in una 72 della della segava era uscito da poco il modello della segava parliamo di oltre vent'anni fa oramai feci questo tornato in livrea locusta l'aereo di bellini e cocciolone quello famoso italiano abbattuto nel golfo ecco il mio socio peppino ha avuto la brillante idea di mettergli sopra un piede esatto e quindi il modello non è mai non è mai arrivato ai concorsi era un kid della segava con tutti i sedi berlinden per fare le parti aperte quindi succedono queste cose nel muovere modelli per i concorsi e praticamente il la decisione quindi per adesso di tenere così com'è questo questo caterpillar in questa configurazione e quanto poi in un secondo tempo sto facendo il diorama completo di 70 con il low boy è solo che diventa enorme quindi per spostarlo diventa un disastro questo sarà alla fine un modello una combo completa con diorama sotto non penso di aggiungere figura perché la 1 a 24 25 compatibile con la 75 mm come scala e quindi non esistono perlomeno che io sappia figure civili di civili anni 70 già esiste pochissimi 1 a 35 figuriamoci in 75 mm la 75 mm è una scala per figure storiche quindi non per soggetti del genere questo è quanto il modello è finito ho aggiunto le ultime stupidate quindi lo scarico lo scarico alto tutto invecchiato che avrebbe dato problemi durante il trasporto e poi ho aggiunto il tocco finale delle delle foglie secche dato che tutto il camion è pieno di foglioline da parcheggio questo poteva essere rimasto parcheggiato sotto un albero in autunno e trasportato via e quindi questo motivo per cui strategicamente le foglioline sono foglie vere tra l'altro queste qua sono foglie in scala la marca che le fa è un po un segreto chissà stanno già ridendo è un po un segreto però rendono molto bene vedete colorate con i colori a e questo è quanto questo è quanto ieri l'ho fatto vedere agli amici del club tutti i modellisti eccezionali c'erano dei lavori ragazzi che vedrete i prossimi concorsi lavori impressionanti veramente parlo di figurini e di soldatini roba da rimanere un po lì io sono l'unico di loro che fa anche perché come sapete in giro di modellismo civile già c'è poco c'è poco perché nei concorsi solo recentemente per merito di alcuni ragazzi cito i ragazzi dell'associazione modellisti bresciani modellisti formidabili persone eccezionali ci conosciamo da 30 anni oramai ecco loro fanno le categorie dei soggetti civili tante volte oggi perlomeno in italia già meno all'estero perché a me sono capitati un paio di concorsi svedesi e tedeschi dove ciò olandesi dove ciò non capitava e praticamente adottano la cosiddetta formula open con il risultato che le categorie civili vengono tutte messe in un calderone unico e quindi voi avete che non so un caterpillar del genere va per esempio contro i gioielli potrebbe andare contro i gioielli che fa il grande marione della mb tutti i modi factory hero in uno 12 completamente aperti di formula 1 che non c'entra abbastanza un cazzo con un soggetto del genere è vero che sono soggetti civili ma dividili per lo meno per categoria non lo vuoi dividere per categoria dividimeli per scala almeno no loro fanno categorie uniche modelli civili quindi potete trovare non so un bosica montato da un pro un 12 montato da marione con le macchine di george in giro cioè motivo per cui i concorsi modelli civili non ne vedete più vedete qualche ragazzino che prova perché tutti cominciano a montare la macchinina poi la roba bella la vedete sulle riviste quando la vedete allora vedete su facebook o su instagram non la vedete più i concorsi quindi finché le categorie dei concorsi di modellismo saranno fatte alla cazzo io personalmente per quanto possa essere sincero io ho sempre preso ottimi premi in tutte le manifestazioni anche con le categorie messe così però voglio dire se fanno 30 categorie per gli aerei fanno 30 categorie per i figurini fate due tre categorie per i mezzi civili non dico come prima della istituzione della formula open di avere moto in 43 moto in 32 moto in 112 ma fai la categoria delle moto non metterle tutti insieme civile quindi un camion che va con una moto in 12 che va con un formula 1 model factory hero che va con le autocostruzioni di davide gazzoli non ho quattro quei quei cosi giganti che fa davide che le porta alle fiere che le vedete nei video in giro non c'entrano un cazzo cioè è sempre soggetto civile ma no in più dato che ormai la nome è questa fare un concorso solo di mezzi civili non ha senso perché la gente fa anche altra roba fa anche carri fa anche aeree alle organizzazioni e roba che costerebbe due euro in più a dare due medaglie in più tre euro in più ad una coppa non lo so però è il motivo per cui i concorsi ne vedete sempre e ne vedrete sempre di meno finché le cose non cambiano ripeto la speranza è che appunto come alcune associazioni concorso della mb il primo è sono i più bravi in italia fare fare modelli quindi non ce n'è per nessuno però anche gli altri si stanno muovendo anche mmc ce ne sono diversi ecco che si stanno muovendo bene stanno perlomeno creando le categorie di questi soggetti quindi nel corso del 2023 se io troverò le categorie meglio ancora sarebbe trattori veicoli commerciali in alcuni punti appunto lo fanno il concorso internazionale di stresa c'è quella categoria lì se devo mettere questo bulldozer in categoria con un formula 1 in 1 43 no ma anche per lui voglio dire anche per lui perché non magari prendo io prendo il posto su ma mettete due medagli in più ecco questo è il mio messaggio modello è quindi finito quindi nel corso di quest'anno io penso di tenerlo su questa base qui è volutamente una base un po' grossa credo che sia una base di un caro del giuli un mercato del giuli con lo sminatore si è temporaneamente fissato su questa bella basetta di legno dipinto professionalmente dal falegname questo era un lavoro che aveva fatto il mitico orsi con tutte le venature a vista e quindi per adesso molto anche facile da maneggiare modello è fissato però perlomeno quando lo si tocca si tocca qui quindi non vai con le manone sul modello è molto pesante è molto grosso vedete anche questa è una scala graduata siamo a una base lunga 34 centimetri 34 centimetri e e larga 20 quindi è grosso come come oggetto in più peso un'ira di dio quindi per adesso rimane così poi finirà sul carrello low boy e vi mostrerò il video completo però ne parliamo nel corso dell'anno questo è quanto grazie dell'attenzione credo di aver finito con il video solo del caterpillar poi ci saranno i video del caterpillar sul suo carrello grazie a tutti per l'attenzione credo di